Soprattutto tutti, su questo ciamolo. Siamo ritornati per l'ultima giornata di questi campionati europei. Italia-Austria, per la seconda volta. Prima partita, è stata vinta dall'Italia. Vediamo se gli austriaci riusciranno a prendersi la rivincita. Chi è vinto? La stessa. Austria-7, Italia-6. Grazie a tutti. 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 Mettere in atto il cosiddetto piano San Giovanni. Vediamo di cosa si tratta. In questo caso i santi non aiutano. Puoi spiegarci a tutti. In cosa consiste questo piano San Giovanni? Per favore. per la partita. sono i 5, sono a Bologna, sono a Bologna, sono già con la macchina girata, sono già con la macchina girata verso la tartoria, il biacchese, da San Lazzaro. quindi appuntamento appuntamento. per la partita. Succhi di Puspaas Let's go defense, let's go defense Let's go defense, let's go defense 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 defense Let's go defense Go defense Go defense Let's 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 go defense